. Juve, i convocati per il Camp Nou, out anche Manzuki Checchiellini. . Sarà una Juve d'emergenza quella che si presenterà domani sera alle 20.45 al Camp Nou, per la prima gara del gruppo di The Champions League 2017-18. . Per la delicatissima trasferta di Barcellona infatti Massimiliano Allegri non avrà a disposizione ben sette giocatori, Lichtsteiner, Ovedes, Checchiellini, Chedira, Marchisio, Quadrado e Manzukić. . Il Croato ed i due centrali di difesa sono le novità negative dell'ultimo minuto, mentre per i due mediani era già nota la situazione medica. Squalificato Quadrado, fuori dalla lista Champions League-Staner. . La lista dei convocati per domani sera è cortissima ed è composta soltanto da 19 elementi, di cui due della primavera, Mero e Caligara. Entrambi troveranno sicuramente spazio in panchina, dalla quale l'unico escluso sarà il terzo portiere Pinsoglio. . . Parlando invece dell'undici titolare, le scelte di Massimiliano Allegri sembrano ampiamente già scritte, poiché obbligate. Importa ovviamente Capitan Buffon, dopo il riposo di due giorni fa. . . Davanti a lui si rivedrà Alexandro a sinistra, il brasiliano ha smaltito l'attacco influenzale di sabato e rientrerà, al pari di Barzagli, al quale erano stati concessi due giorni liberi. . . L'esperto difensore numero 15 dovrebbe allargarsi a destra, lasciando campo centralmente abbenati ai Rugani, dimostratisi compatti nell'ultimo match casalingo contro il Chievo. . 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 Grazie a tutti.